Cari amici, buongiorno, benvenuti a Gocce di Vino. Oggi voglio parlarvi di qualcosa di molto concreto, che fa seguito del resto a delle domande che mi sono state fatte recentemente. Voglio parlarvi del sapore di tappo. Che cosa bisogna fare quando ci troviamo davanti, siamo al ristorante, ci serve una bottiglia che sa di tappo. Prima ancora, perché c'è il sapore di tappo e com'è la situazione oggi anche rispetto al passato. Possiamo dire che, come prima cosa, alcuni decenni fa, 20-30 anni fa, il sapore di tappo, il tipico bouchonnet, come si dice in francese, riguardava più o meno una percentuale che andava tra l'1 e il 2% delle bottiglie. Purtroppo, negli ultimi anni, negli anni recenti, questa percentuale è cresciuta e anche a un certo punto è cresciuta quasi a dismisura, perché siamo arrivati a dei livelli che superavano anche il 4% e quasi toccavano il 5%, che è comunque molto. secondo me, del resto, questo aumento è dovuto al fatto che c'è stato un aumento del numero di bottiglie nel mondo, un aumento dell'utilizzo del sughero e sicuramente anche una qualità del sughero che andava piuttosto andando giù, visto che c'era bisogno di una più grande quantità. I produttori, ovviamente, per loro è un grosso problema, un grosso danno e quindi hanno cercato di trovare delle soluzioni. Le soluzioni proposte negli ultimi anni sono state numerosissime, con dei risultati del resto molto variabili, perché poi ho assaggiato un po' tutte le bottiglie che avevano delle tappature diverse da quelle del sughero, quindi con alternative, partendo dal tappo corona, il tappo a vite, dei tappi sintetici, dei tappi fatti con la plastica, dei tappi fatti col vetro, dei tappi fatti col sughero, prima distrutto, macinato e poi ricomposto. Tante soluzioni che però poi complessivamente è difficile per l'uomo di andare a emulare la natura. Quello che fa la natura sono delle cose straordinarie che difficilmente si possono riprodurre e non c'è nessuna soluzione oggi che abbia quelle caratteristiche straordinarie che può avere il sughero, che essendo molto elastico permette di avere un'aerazione, un'ossigenazione del vino che è necessaria per una lentissima ossidazione, quindi evoluzione del prodotto nel tempo. È ovvio che di tutte queste soluzioni per me sicuramente ce ne sono due che sono abbastanza valide. Una è sicuramente il tappo a vite, ma che è una soluzione che va benissimo per dei vini che sono da bere nel giro di 12-24 mesi, perché ovviamente il tappo a vite non darà nessun problema a priori di gusto, ma non lascerà passare l'ossigeno e quindi fa sì che il vino non avrà una sua evoluzione. Quindi questo può andare benissimo per dei piccoli vini di interesse minore, ma per i grandi vini lo vedo abbastanza problematico da utilizzare. Poi l'altra soluzione è quella del famoso tappo Giams, che effettivamente, essendo ricomposto, permette di eliminare totalmente il problema del sapore di tappo. Il problema però di questa tipologia di tappo, di sughero ricomposto, secondo me, e questa è un'opinione personale, per avendo fatto degli assaggi nei tempi diversi, quindi avendo lasciato andare per diversi anni, ho notato che forse il vino in quei casi lì ha una tendenza a un'evoluzione leggermente galoppante, leggermente accelerata rispetto a quello che può essere l'evoluzione normale con un tappo di sughero normale. Le altre soluzioni sono tutte problematiche. C'è stato un momento quella del tappo molto, molto tecnico, con una plastica particolare, eccetera, non dava il sapore di tappo, non dava il sapore di plastica, quindi voglio dire che eravamo a un problema da capo e non risolveva veramente la problematica. Il tappo a vetro è neutro, ma ha dei problemi probabilmente anche lì di chiusura, e poi comunque per mettere il vetro ci vuole un piccolo gommino, quindi c'è un problema di eventuale odore o sapore di gommino. Quindi è un problema molto difficile da risolvere, e ancora una volta sicuramente per i vini meno importanti il tappo a vite è un'ottima soluzione, ma per i grandi vini io personalmente sono per conservare i tappi di sughero classici che tra l'altro, per vostra informazione, hanno delle dimensioni che sono diverse. Ci sono dei tappi di sughero più piccolini e ce ne sono alcuni invece che sono nettamente più lunghi proprio per i vini più importanti. Però ci troviamo in una situazione dove siamo a casa, abbiamo comprato una bottiglia in un'enoteca, oppure siamo al ristorante e ci portano il vino e il vino sa di tappo. Allora, prima cosa, bisogna essere sicuri che è effettivamente un vino bouchonet, un vino che sa di tappo, perché molto spesso ci sono dei difetti che possono nascere in una bottiglia o un'altra che possono sembrare un difetto di tappo e che poi in realtà non lo sono. Tra l'altro, apro una parentesi qui, per le persone che assaggiano dei vini molto invecchiati e che non hanno l'abitudine di assaggiare dei vini magari che hanno 20-30 anni di invecchiamento e quindi si trovano davanti, confrontati a un gusto che non conoscono e che possono in alcune volte interpretare come un difetto, come un tappo, quando in realtà non lo è ed è una sensazione leggera, una sensazione di ossidazione. Anche lì l'ossidazione è normale che dopo 20-30 anni ci sia. Il tutto è che deve essere un'ossidazione buona, un'ossidazione molto leggera e non un'ossidazione del tipo che uno si ritrova davanti a una specie di madera totalmente ossidato. Sono cose ovviamente che si possono conoscere avendo assaggiato tante volte dei vecchi vini. Però può succedere ancora una volta e ripeto con delle percentuali abbastanza elevate oggi che uno si ritrova a corsa pur di tappa. Allora, cosa si può fare? La prima cosa, io dico sempre, bisogna immediatamente ritappare la bottiglia. Se la bottiglia l'abbiamo comprata in un'unoteca e l'abbiamo portata a casa, bisogna ritapparla e riportarla il più velocemente possibile, quindi nel giro di 24 ore, 48 ore al massimo, presso l'unoteca che teoricamente, e sottolineo teoricamente, andrà a cambiarla, ma non è obbligato. Bisogna saperlo. L'unoteca può benissimo dire io non te la cambio. Lì è una decisione, diciamo, di tipo commerciale. Ovviamente, il più delle volte... Lui stesso poi prenderà la bottiglia e la rimanda al produttore e il produttore gliela sostituirà. Se invece il problema si pone al ristorante, i casi sono due. Un primo caso abbastanza raro. Il sommelier non condivide il vostro giudizio e dice no, il vino non sa di tappo. Quindi lì entriamo in un caso dove c'è una problematica tra voi e il sommelier. e ancora una volta lì siete voi il cliente, quindi in linea di massima siete voi che avete ragione. E teoricamente il sommelier è d'accordo con voi e la bottiglia viene cambiata. Può succedere, mi è successo, che poi la seconda bottiglia sappia anche l'edità, poi la terza pure. A quel punto lì dovete cambiare vino perché vuol dire semplicemente che tutta la partita, tutto il cartone o la cassa è stata attaccata e quindi è inutile continuare a aprire altre bottiglie perché saranno tutte di tappo. Il ristorante teoricamente anche lì non vi fa pagare la bottiglia che avete rimandato indietro anche perché come per l'inoteca generalmente si fa lui stesso sostituire la bottiglia dal produttore. Ecco, questa è un po' la situazione. Ripeto, è una situazione dove quando c'è un settore di tappo il problema è, se ve la sostituiscono, è una problematica puramente commerciale. Non c'è un obbligo né da parte delle onoteche né da parte del ristoratore, però generalmente lo fa perché sennò perde il cliente. È chiaro che bisogna essere sicuri quando si rimanda indietro questa bottiglia che effettivamente il problema c'è. Per concludere su questa problematica che è molto molto complessa e che qui sto trattando in qualche minuto proprio per darvi una piccola come dire, una spolverata di informazione ma per concludere sappiate che c'è un sistema per togliere il settore di tappo è un sistema molto particolare che si fa utilizzando la carta di plastica a bolle potete una volta a casa far la prova è abbastanza complesso, abbastanza difficile da fare però versate il vino che sa di tappo in un secchio nel quale avete prima messo foderato con questa carta a bolle dopodiché bisogna assaggiare con cucchiaino ogni 10 secondi perché effettivamente questa plastica andrà poco a poco a assorbire i sentori di tappo e poi c'è un momento cruciale in quale non ci sarà più il sapore di tappo però bisogna subito poter utilizzare il vino toglierlo dalla plastica perché qualche secondo più tardi o qualche minuto più tardi incomincerà a prendere un sapore di plastica è un piccolo trucco divertente da fare che tra l'altro è conosciuto da tantissimi anni ma è spiegato da un punto di vista scientifico nel quale adesso non entro ma è stato spiegato proprio da un punto di vista scientifico qualche mese fa quindi una cosa assolutamente recente ecco per oggi ho finito vi do appuntamento alla settimana prossima e vi dico di passare una buona settimana e mi raccomando assaggiate tanti vini e l'arge suaf a presto arrivederci